Come va? Bentornati sul mio canale! Come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale YouTube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità Molto bene! Questo è uno dei tre video che esce tre volte alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì sono un po' più lunghi perché vediamo un attimino le questioni un pochino più in dettaglio e allora oggi parliamo di tante cosine che riguardano RBC il nuovo sussidio da settembre sempre che ci sarà mai e poi se ce la facciamo parleremo anche di un altro argomento se ce la facciamo a stare nei 10-15 minuti poi tra l'altro io lo dico sempre alla fine dei video, stavolta lo metto all'inizio così mi porto già avanti però ricordatevi di seguirmi anche su Instagram, molto importante trovate il collegamento nella scheda di questo video attenzione scheda, non nei commenti, infobox, non so, chiamatela come volete, scheda, infobox non so, trovate il collegamento lì oppure chi ce l'ha già l'applicazione basta che la apre, mi cerca col nome ovviamente e poi clicca sul tasto e segui così mi seguite anche lì perché anche di là si parla anche più o meno di questi argomenti qua bonus, non bonus, detrazione, non detrazione però faccio anche altre cose diverse quindi in realtà poi vi porto anche in giro con me quando faccio le cose vedete quella faccio, quella non faccio se siete anche un po' curiosi mi seguite anche dall'altra parte ma partiamo subito con la primissima notizia oggi vediamo una questione un po' particolare questa questione durerà fino a dicembre, credo, non so quello che sarà però vediamo un attimino perché me l'avete chiesto me l'avete chiesto e così ho fatto delle ricerche e ho scoperto questa cosa qui il RDC, RDC di cittadinanza, è un sussidio statale quindi è un aiuto economico destinato alle famiglie che viene pagato ovviamente vabbè dall'IMS per tramite l'IMS per conto dello Stato attraverso una carta elettronica che si chiama carta RDC una volta avevo detto che questa carta RDC era la carta poste pay e apriti cielo, è riuscita su una questione e ma io non ho la poste pay, allora come faccio a riceverla? allora la carta RDC come anche sarà poi il nuovo sussidio, adio, quello che sarà sul nuovo sussidio ancora più o meno non lo sappiamo più o meno, si pensa che sarà gestito da poste pay ma più o meno sappiamo, non siamo ancora certi comunque diciamo che questi sussidi vengono pagati per il conto di una carta che si chiama poi poste pay che poste pay è la società che emette queste carte di pagamento non è più e ne è meno quindi carta RDC, carta RDC poste pay è la stessa menata e comunque tornando a noi la carta RDC poste pay viene emessa direttamente dalle poste italiane e permette di acquistare bene servizi di prima necessità che servono per vivere e dici vabbè fino a qui lo sapevamo, cioè non è una novità poi va bene, ok, di questo ne abbiamo parlato poi c'è anche un'altra questione che sappiamo benissimo ad oggi RDC è ancora al centro di un grosso dibattito politico, non politico gente che si lamenta di questo gente che si lamenta di quell'altro ristoratori che dicono è tutta polpa di RDC se non troviamo lavoratori è sempre un gran casino, no? ecco e comunque dicono dicono perché come dico io invece sarà cambiato dicono che sarà cambiato ma come dico io stiamo ancora aspettando una legge che ci chiarisca bene tutto quanto su come sarà, come non sarà perché il decreto lavoro è scritto malissimo non si capisce niente quindi anch'io sto aspettando una legge un po' definitiva anche se in realtà qualcuno se ne è già uscito fuori con degli emendamenti al decreto ma non è tanto di quello che voglio parlarvi oggi quanto di un'altra questione con la carta RDC si possono fare dei prelievi di soldi in contanti entro un limite mensile di 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo oppure si può pagare direttamente fare la spesa usando la carta e digitando il PIN che vabbè già conosciamo si possono comprare tutti i tipi di alimenti pagare le visite mediche pagare gli amici e acquistare i medicinali la messa scolastica il marta reale scolastico bollette pagare bollette luce e gas più altre varie spesucce tranne i beni o servizi non di prima necessità e gli acquisti online ma una domanda che ho ricevuto in questi giorni che era l'argomento iniziale cioè con il quale abbiamo aperto questo capitolo del video è questa si può pagare l'affitto e la rata del mutuo? allora sì con la carta RDC si può pagare anche l'affitto oppure la rata del mutuo ma siccome il 90% delle persone vivono in 90% più o meno secondo me anche il 50% delle persone vivono in un condominio a questo punto viene fuori un'altra domanda e invece per quanto riguarda il condominio come facciamo? sappiamo bene che le rate del condominio sono delle spese abbastanza pesanti da sopportare tutti i mesi o ogni sei mesi adesso dipende da come vengono addebitati dall'amministratore e quindi in teoria usare la carta RDC potrebbe essere un corso aiuto per sostenere queste spese di solito le spese condominiali sono comprensive anche di spese come la manutenzione ordinaria le utenze della luce il riscaldamento delle parti comuni o dell'alloggio e tutti quei servizi che servono compresi anche tutti quei servizi che servono al mantenimento dello stabile allora qui ci sono due tesi due modi di pensare diversi da una parte visto che si possono pagare le utenze private compreso affitto mutuo si può pensare che anche il condominio cioè le spese del condominio rientrino in questo tipo di spesa tra l'altro considerando anche che queste spese sono proprio legate alla casa e questa è una strada seconda strada quindi dall'altra parte invece proprio sul sito internet di RDC www.redditodicittadinanza.gov.it non è stata elencata la voce condominio e spese condominali tra le varie spese che si possono pagare con la carta a questo punto la risposta a questa domanda se si possa usare oppure no la carta RDC non è diciamo proprio così immediata insomma diciamo che la risposta potrebbe essere di no però è anche vero che questa non è una delle voci che sono state vietate quindi non è nell'elenco delle spese vietate tra l'altro appunto non essendo nell'elenco delle spese vietate verrebbe da pensare che si possa pagare qualche tempo fa tra l'altro avevo pubblicato un altro piccolo video dove si parlava di questo brevemente di questo argomento e molti di voi invece mi hanno detto no 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 io le pago tranquillamente senza nessun problema non è mai successo niente questo è quello che mi hanno scritto gli altri però ricordatevi che questo argomento di cui vi ho parlato serve solo a titolo informativo e io non posso cioè sapete che io non posso entrare nel merito delle leggi non posso legiferare non posso fare questo tipo di cose allora però comunque vi do un consiglio quindi diciamo il consiglio dell'esperto a questo punto se siete in dubbio su determinati tipi di argomenti determinati tipi di spese questo vale anche poi per quando sarà arriverà l'adi poi dal 2024 ricordatevi sempre che intanto di telefonare al centralino dell'inps oppure di andarci di persona se dovete fare altre commissioni ci andate di persona prendete appuntamento così loro magari vi sanno aiutare vi sanno dare un consiglio oppure se avete dei dubbi potete sempre telefonare o andare direttamente al CAF vicino a casa dove vi affidate per seguire le vostre pratiche cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione il nuovo RDC nuovo vabbè vediamo dopo dicono dicono che sarà riservato alle persone e famiglie che hanno all'interno del nucleo familiare dei bambini persone con più di 60 anni o persone con disabilità o coloro che sono stati presi in carico dai servizi mentre invece dal primo di settembre ci sarà il SFL supporto formazione lavoro o come lo chiamo io scuola formazione lavoro più o meno siamo lì anzi secondo me scuola formazione scuola formazione lavoro rende di più l'idea di quello che è effettivamente questo supporto in questi giorni comunque sta facendo molto discutere il problema della congruità dell'offerta di lavoro perché il nuovo sussidio obbliga praticamente un pochino troppo le persone ad accettare dei lavori anche se non piacciono loro dicono che comunque l'offerta di lavoro deve essere compatibile con le proprie esperienze e addirittura persino dicono cioè si arriverebbe persino ad obbligare le persone a spostarsi e ad allontanarsi da casa fino a 80 km di distanza o comunque con un massimo di 100 120 minuti di distanza sono quindi o 80 km o 100 minuti che comunque vorrei ricordarvi che 100 minuti sono 1 ora e 10 minuti cioè scusate sono 1 ora e 40 minuti non 1 ora e 10 minuti 1 ora e 40 minuti poi adesso vi racconto questo vabbè ok anch'io quando avevo iniziato a lavorare ben 30 anni fa facevo circa 3 quarti d'ora di strada da casa per andare a lavorare in centro a Torino perché io lo abitavo fuori quindi facevo 3 quarti d'ora di strada attenzione di cui mezz'ora di tangenziale e 4 d'ora 20 minuti in mezzo al traffico in centro a Torino perché come ho detto non ero proprio vicinissimo però diciamo che la distanza era di 16 km e non 80 come stanno dicendo adesso 16 km insomma è abbastanza accettabile considerando però che per fare quei 16 km ci mettevo 40 minuti detto questo andiamo a leggere un pochino cosa c'è scritto all'interno del decreto lavoro e più precisamente l'articolo 8,6 e poi lettera D e si legge questo il nucleo familiare che percepisce l'assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo tenuto all'obbligo di cui l'articolo 6 abbiamo già parlato non accetta senza giustificato motivo un'offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 9 relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro e allora andiamo a leggere questo benedetto articolo 9 cosa dice al comma 1 e c'è scritto così il componente del nucleo familiare beneficiario dell'assegno di inclusione attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6 comma 4 preso in carico dai servizi per il lavoro competenti e tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale attenzione a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito dell'italia ok si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale quindi part time o full time non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previste dai contratti collettivi di cui l'articolo 51 decreto legge 15 giugno 2015 numero 81 va bene oppure si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato anche in somministrazione qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 km dal domicilio del soggetto poi come vi avevo accennato anche in un altro video sarebbe arrivato un primo emendamento al decreto un decreto lavoro ovviamente e come vi avevo promesso avevo già accennato anche prima nel video che ne avrei parlato comunque a parte quindi andiamolo a vedere un pochino questo questo discorso nuovo in pratica pare che vogliano mettere un tetto massimo di 120 minuti di tempo calcolato sui mezzi di trasporto per raggiungere l'offerta di lavoro a tempo determinato attenzione a tempo determinato quindi solo quando si tratterebbe di un'offerta di lavoro che scade dopo pochi mesi addirittura o dopo magari qualche settimana questo come dicevo sarebbe un emendamento al decreto lavoro presentato da Giovanni Satta quindi in pratica se una persona dovesse accettare per forza un contratto di lavoro perché obbligato dalla prima offerta magari part time di 5 ore e con 120 minuti di andata che sono due ore praticamente e poi 120 minuti di ritorno quindi altre due ore fate un po' voi i conti e vedete cosa ne salta fuori due ore andata due ore di ritorno sono già quattro ore una giornata fatta da otto ore di lavoro diciamo teoricamente di lavoro sono quattro più due più due sono già quattro più cinque di lavoro alla fine sono nove ore quindi alla fine si perde più tempo a viaggiare avanti e indietro che andare a lavorare che stare lì sul posto di lavoro a questo punto la differenza tra rdc e nuovo sussidio per quanto riguarda l'offerta di lavoro congrua la distanza il tempo e l'importo in bussa paga sono diciamo abbastanza sostanziali queste differenze tra vecchio rdc e nuovo rdc quindi adesso che avete sentito bene tutto il discorsino se volete commentare commentate pure tranquillamente però mi raccomando commentate con moderazione perché poi sapete che youtube banna i commenti quindi me li mette tutto in una sezione dedicata dove poi io devo andarli a sbloccare uno per uno per rimetterli nella sezione dei commenti pubblici perché perché c'è vabbè discorsi di youtube su parole che si possono usare e che non si possono usare poi ovviamente visto che siamo già arrivati non so 16-17 minuti c'era un altro argomento come solito ve lo metto poi come primo argomento nel video di di uno dei tre video che esce quelli tre volte alla settimana lunedì mercoledì e venerdì quindi diventerà il primo argomento con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e come sempre noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre e solo sull'unico canale originale di youtube il mio quello che vi fa i conti in tasca a presto ciao ciao